ciao a tutti per la prova di oggi siamo con il brunetti metropolitan 10 watt valvolare lo ascolteremo prima variando i controlli di tono del canale pulito e di texture del canale saturo per ascoltare l'enorme varietà di suoni di cui questo amplificatore è capace e poi invece visto che dobbiamo farlo registreremo un jingle utilizzando i suoni clean e lead del brunetti e invece il crunch sempre con il brunetti ma attraverso un overdrive che nel caso particolare è un full tone OCD A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E con il Brunetti Metropolitan è tutto A presto e ciao da Emiliano Ciao